Forse... forse... mi serve, aiutami! Sì, faccio! Senti! Ho capito, non ti preoccupare, ci vorrà meno tempo per farti guarire che ha un turboscoiattolo a dentare una calda! Dita al sicuro, lontane dalla bocca! Spero tanto che funzioni! Hmm... Do-do-do-do-do! Oggi è! Oggi è! Oggi è! Oggi è! Oggi è! Oggi è! Sì, volete dare spai di volta!